Sono oltre 200 i militari della Guardia di Finanza che, seguendo l'attività di indagine voluta dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore guidata da Antonio Centore, hanno dato esecuzione ad ordinanze di misure cautelari personali e sequestri preventivi per un valore di 128 milioni di euro. Si tratta di un'indagine nel contrabbando internazionale di prodotti petroliferi, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di bene. Ad essere interessate le province di Salerno, Napoli, ma anche Potenza, Roma, Chieti, L'Aquila, Mantova e Milano. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno hanno ricostruito l'attività di due distinte associazioni criminali, radicate nell'agro nocerino sarnese e dedicate alla commercializzazione di carburante adulterato importato da diversi paesi esteri, che consentiva però loro di eludere il pagamento delle imposte. Una prima indagine, già a partire dal 2018, aveva portato al sequestro di 13 autocisterne e 500 mila litri. Gli accertamenti in questo caso sono invece stati avviati verso la fine del 2017, a seguito di alcune anomalie emerse in seguito ad un traffico di carburante proveniente dall'est Europa, venduto in Italia sfruttando un meccanismo fraudolento che portava ad evitare il pagamento delle imposte. Nello specifico, secondo quanto ricostruito dai finanzieri, gli indagati nell'arco di soli due anni, tra il 2018 e il 2019, avrebbero importato illegalmente da fornitori ungheresi, croati e sloveni oltre 20 milioni di litri di olio anticorrosivo e preparazione lubrificanti, prodotti per natura non soggetti alle accise e in linea con la normativa nelmeno al monitoraggio del loro trasporto. I carichi irregolari proseguivano verso un deposito petrolifero dell'Interland milanese, un hub di distribuzione attraverso il quale le partite di carburante venivano poi immesse nelle cosiddette pompe bianche. Per avere un'idea di quanto sia stato lucroso il meccanismo messo in piedi, basta considerare che per ogni litro di gasolio venduto ad un prezzo medio alla pompa di 1,50 euro, gli indagati ottenevano un risparmio di circa 27 centesimi di IVA e 60 di accise, per un totale di quasi 90 centesimi al litro di imposte basa. Naturalmente dietro tutto questo, un percorso articolato e tortuoso di società cartiere scoperte dalla Guardia di Finanze, a sottolineare la complessità dell'indagine è stato questa mattina proprio il comandante provinciale Danilo Petrucelli. Indagine complessa perché sono state eseguite chiaramente indagini di natura tecnica, quindi intercettazioni telefoniche, sono stati monitorati gli spostamenti delle autocisterne mediante sistemi di rilevazione dei passaggi in autostrada, sono stati chiaramente adoperati gli strumenti della mutua assistenza amministrativa con gli organi collaterali esteri, oltre che al strumento delle indagini finanziarie e degli accertamenti patrimoniali tipici della Guardia di Finanza. Un particolare che è emerso nell'ambito delle indagini è che cinque degli indagati, proprio perché formalmente non risultano titolari di ricchezza o patrimoni e redditi dichiarati al fisco, hanno potuto presentare domande e hanno beneficiato del reddito di cittadinanza, che chiaramente adesso verrà subito sospeso e dovranno restituire le somme indebitamente percepite. Un'altra circostanza che è emersa è che chiaramente queste grandi ricchezze illecite dà una possibilità di acquistare beni di lusso e manifestare una certa ricchezza e disponibilità di redditi che non avevano difficoltà a ostentare come emerso nel caso dell'inaugurazione di alcuni distributori stradali dove tenevano in bella mossa delle macchine di lusso, tipo limousine e Lamborghini. Questa mattina abbiamo proceduto al sequestro di una Porsche, di una Ducati e di una imbarcazione ormeggiata qui nei pressi di Salerno.